Ciao, oggi ho deciso di cementarmi su una cosa che non avevo mai fatto ed è un 7 ottavi. Ho appena registrato il video in realtà, perché di solito io registro il video e poi faccio tutto lo speaking ti troverai qualche errore all'interno, però provando a fare tre take in realtà ho tenuto solo la prima, tu sentirei proprio è solo la prima, con qualche errorino perché le altre due sono venute peggio. E ahimè, io non sono molto adatto al mondo della scomposizione, insomma amo altre cose però ho voluto effettivamente provare su di me, insomma, qualche esperienza in più ci ho provato, mi sono messo un po' a rischio, spero ti piace questa cosa insomma adesso ti porto ad ascoltare un po' a rischio, spero ti piace questa cosa insomma è un po' a rischio, spero ti piace questa cosa insomma è un po' a rischio, spero ti piace questa cosa insomma è un po' a rischio, spero ti piace questa cosa Grazie a tutti. 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 La base è la numero 95, è un 780. Insomma, grazie di tutto, ci vediamo presto, stammi bene, ciao.